Si è divertito? Si moltissimo con Andrea Di Marco Ma cosa è successo a un certo punto? Avevi le mutande? Avevo le mutande al contrario Ma che mutande erano? Erano i tanga, tanga triste, tangoso Però io li ho ritrovato subito quelli davanti perché dietro è marrone davanti Laura Magni, com'è andata? Bene, bene Era una minoferta promozionale, 3x2, erano i 3 Perché aveva un complicello commerciale Eravamo al punto, hai capito? Eravamo proprio... Mi confondi, mi confondi Tu sei un giornalista dell'opposizione Siete tutti uguali, maledetti Cambiate una virgola, spostate una parola E anche la merda diventa Putin, basta!